Festa di San Giuseppe, lavoratore, il primo maggio è stato celebrato dal cardinale Matteo Zuppi con una visita alla sede della cooperativa Cotabo Taxi per la messa del mattino che è stata trasmessa in streaming. Pochissimi i lavoratori fisicamente presenti a causa dell'emergenza sanitaria e tra questi i rappresentanti anche dell'altro consorzio di taxi bolognesi, CAT, che ricorda i 50 anni di attività. I taxisti sono stati sempre sulla breccia durante tutto il periodo dell'emergenza, rendendosi protagonisti anche di importanti gesti di solidarietà. Accanto al cardinale, che ha ricordato l'importanza della solidarietà e della sicurezza nel lavoro, era presente anche il vescovo emerito di Imola, Monsignor Tommaso Ghirelli, che ha tenuto una breve omelia. Dei temi importanti sul tappeto in questo primo maggio si è parlato anche nella manifestazione virtuale che è stata trasmessa in streaming anche con l'intervento del cardinale Zuppi. Se ne esce insieme, non c'è dubbio, e se ne esce con questa nuova solidarietà che ci può unire perché di fronte a tanta povertà che c'è e che ci sarà. Io ho tanto timore perché anche parte del ceto medio si ritrovi, si trova già molto minacciata. Quanti sono gli italiani impoveriti, indebitati, incapaci di far fronte agli investimenti progettati e cresce il numero degli indigenti. Quindi deve crescere a maggior ragione la solidarietà. Anche la giornata mondiale di preghiera per le vocazioni è stata celebrata nelle ristrettezze imposte dall'emergenza. Il cardinale ha concelebrato la messa domenicale nella cripta della cattedrale con i sacerdoti del seminario arcivescovile. Nel Rosario della Sera, che è stato trasmesso in streaming dalla parrocchia di Medicina, ex Zona Rossa, sono intervenuti in collegamento anche i seminaristi della diocesi e alcuni giovani religiosi che hanno condiviso la preghiera attraverso i nuovi media. Gratitudine, coraggio, fatica, lode sono le parole che hanno scandito il messaggio che il Papa ha inviato a tutti i giovani per aiutarli a riflettere sulla loro vocazione. Grazie.